Qua è la squadra che gioca il miglior calcio? Il trappani è una partita che ha portato punti importantissimi alla classifica e ha ridato anche un po' di morale alla squadra dopo gare in cui sicuramente non era stato raccolto in termini di punti quello che era stato seminato sul campo. Sì, è detto bene, non l'avevamo raccolto per quello che meritavamo, non male che sabato abbiamo vinto con il trappano, è una partita molto difficile contro un'altra squadra che gioca molto bene, perciò aver vinto vale doppio. Adesso però bisogna dare continuità ai risultati e cercare di fare risultato anche a Crotona. In città si respira già l'atmosfera del derby ma ovviamente la testa della squadra deve essere tutta sul Crotona. Sì, sì, noi dobbiamo passare a Crotona esclusivamente a quello e poi ci penseremo al derby. Anche nelle scelte quindi da un punto di vista tecnico sono esclusivamente indirizzati su quello o c'è l'idea di ragionare anche in funzione delle due gare ravvicinate in cinque giorni? No, no, no. L'idea è quella di presentare la miglior formazione possibile sabato e poi ci penseremo all'altra. Abbiamo qualche problema a guarda e mani, lo valuterò e cercherò di recuperarlo. Lo proveremo all'ultimo, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Altra nota positiva è il rientro di Inglese che da questa settimana si è reaggregato al gruppo. Sì, sono molto contento che ci sia perché è un ottimo giocatore, l'ho visto all'opera e mi piace molto. Rientrano Romagnoli e Pesoli al centro della difesa, si ritrova un po' l'assetto quasi completo. Sì, sì, rientrano loro due, perdiamo le tizie purtroppo, però insomma chi giocherà farà bene.